Nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà dei disturbi del comportamento alimentare. Allora, in che cosa consistono questi disturbi, dottore? Allora, sì, i disturbi del comportamento alimentare li possiamo definire come dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione caratterizzati da un alterato consumo e assorbimento di cibo, tali da compromettere la salute fisica e anche le relazioni psicosociali dell'individuo. È un fenomeno in costante aumento, in Italia si registrano ogni anno tantissimi nuovi casi, è a prevalenza femminile, però stanno aumentando anche la percentuale degli uomini affetti da questi disturbi. Quali sono? Abbiamo la pica, il disturbo della ruminazione, il disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo, poi quello un pochettino più famoso, quindi l'anoressia, la bulimia, e il disturbo di alimentazione incontrollata più un'altra serie di disturbi non meglio specificati. Le cause di questi disturbi sono multifattoriali, cioè entrano in gioco sia dei fastidi psicologici che biologici. Hanno però in comune una serie di cause o di sintomi, quali possono essere appunto la restrizione calorica, il digiuno, l'utilizzo improprio di farmaci, un'ossessione quasi per l'attività fisica, perché comunque sono accumunati anche da questa dispercezione corporea, cioè avere un'alterata immagine del proprio corpo e della propria forma fisica. Quindi cosa consigliamo a chi avvisa questi disturbi del comportamento alimentare? Sì, allora le ultime linee guida ovviamente tendono a porre l'accento sull'importanza di un team di professionisti che deve seguire la persona affetta da questo disturbo, quindi vuol dire il medico, lo psicologo, il psichiatra, il nutrizionista, il fisioterapista e degli operatori sociali. Ovviamente per quanto riguarda il nutrizionista, il suo campo di intervento riguarda ovviamente la valutazione dello stato nutrizionale, la correzione del peso corporeo e della malnutrizione, la valutazione della composizione corporea e far riacquisire il giusto rapporto con il cibo, oltre che il giusto controllo del senso di fame e di sazietà. Ovviamente poi in tutto questo è importante anche la prevenzione, quindi una prevenzione che deve essere fatta dai professionisti, ma anche a livello familiare e scolastico. Non solo, ma anche in alcuni ambiti di lavoro che classicamente sono più soggetti a questo tipo di disturbo, come per esempio può essere il campo della moda. Grazie dottore per i preziosi consigli, l'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana sempre su Cilento Channel.